Sim, lo scendere italiano delle due ruote, si colloca oggi piuttosto bene, si colloca in una posizione di azienda abbastanza dinamica, azienda che nell'arco dei 4 anni di operazione di Sim in Italia è riuscita a arrivare ad essere il numero 7 nel mercato scooter e molto presto dovrebbe riuscire a diventare il numero 6, quindi azienda dinamica, azienda con grossi potenziali di crescita che ormai ci sono riconosciuti dai concorrenti e dal mercato stesso. Credo che il punto forte, il punto chiave che ha permesso a Sim di arrivare dove è oggi è quello di aver capito che la rete di vendita è una delle cose più importanti che noi abbiamo, il più grosso asset che può avere Sim, quindi ci siamo molto concentrati nel fidelizzare la rete di vendita accompagnando questo all'introduzione di prodotti nuovi adatti per il mercato italiano, cosa che prima le aziende tavoinesi non facevano. Quali sono i modelli di punta, qual è il modello di punta della gamma Sim? Oggi il mercato italiano ha dato delle chiare indicazioni e si è rivolto molto, vista anche la crisi economica sui prodotti economici, quindi ad oggi in termini di vendita sicuramente nella gamma Sim il prodotto ruota alta di gamma prezzo medio economica, ovvero il Symphony sia 50 che 125, è il modello di punta indubbiamente di gamma Sanyang, però Sanyang vede molto nella gamma Citicom e Joymax 300, vede molto il prodotto che meglio rispecchia il rapporto qualità prezzo di cui parlavamo precedentemente. Bene, se dobbiamo parlare dei punti negativi del marchio Sanyang, io da direttore commerciale auspico che Casa Madre diventi sempre più veloce nell'introdurre nuovi prodotti sul mercato, il nostro mercato è un mercato che si evolve a una velocità incredibile, quindi è mio compito parlando con Casa Madre a spingere sempre di più la velocità di introduzione di nuovi prodotti sul mercato, cosa che oggi non è sempre inicepibile. Gli sviluppi futuri di Sanyang, la Sanyang è cosciente che oggi nel mercato scooter non è presente in tutte le fasce di prodotto, quindi è palese che oggi la Sanyang sta dedicando molte attenzioni sul sviluppo di una gamma di scooter, maxi scooter, quindi motorizzazioni 600 che dovrebbero essere disponibili sul mercato a breve e motorizzazioni 400 immediatamente dopo. Altro settore dove la Sanyang intende presentarsi in forza è il settore del veicolo elettrico, anche se da parte mia lo vedo difficile per il mercato italiano, perché noto che in Italia mancano le infrastrutture per la gestione del veicolo elettrico, semplicemente mancano le stazioni di ricarica nella maggior parte delle città importanti italiane. È chiaro che la sfida del mercato è in continuo sviluppo, quindi queste sfide noi le accettiamo e riteniamo per il futuro la necessità di fare un completo restyling del prodotto Rota Alta HD, il Symphony che sta avendo già successo come cilindrata 50, 125, dovrebbe assumere o dovrà assumere la motorizzazione 150cc perché è un settore che si sta dimostrando interessante ed ovviamente la gamma Maxi Scooter 600 prima e 400 immediatamente dopo saranno i prodotti del futuro. Ovviamente le sfide sono importanti, quindi invitiamo a tutti a visitarci al prossimo ECMA 2009 per vedere quante di queste sfide noi riusciremo a compiere entro il 2010.